Nei giorni scorsi all'ospedale San Biagio sono stati eseguiti due prelievi multiorgano. Accertata la morte cerebrale di due pazienti ricoverati in rianimazione, è stata richiesta ai familiari la non opposizione alla donazione degli organi, o la testimonianza su un'eventuale espressione di volontà in vita del loro congiunto sulla donazione, come previsto dalla legge italiana. Dimostrando una notevole sensibilità ai familiari hanno testimoniato la non opposizione Grazie per la visione!